C'è in te una grande opportunità poterti confrontare con il campionato di Serie B? Sì, assolutamente. Vengo da un campionato di Serie C e poi arrivare qui a Pescara per me è veramente un onore perché giocare per questa squadra, soprattutto in Serie B, è una grande occasione, soprattutto per noi giovani. Come è nata questa opportunità di arrivare qui a Pescara? Sì, sinceramente grazie al mio procuratore sono stati degli agganci e abbiamo deciso questa strada perché secondo noi è la migliore per la mia crescita. Dal punto di vista tecnico, di grazie è il classico esterno offensivo a cui piace attaccare uno contro uno? Sì, assolutamente sì. Mi piace svariare anche molto sul campo, però è la mia caratteristica. Preferisci partire largo a sinistra o largo a destra? Per un destro, largo a sinistra. Sinceramente preferisco rientrare e dare più opzioni anche ai miei compagni. Ti racconto un aneddoto. Quando il presidente Sebastiani ha detto del tuo arrivo a Pescara, ha detto che è un ragazzo di cui si parla poco, ma noi a Pescara ci crediamo molto. Sono contento del presidente che mi sta dando questa fiducia. Io cercherò di ripagarlo nel campo come vorrei fare. darò l'anima veramente per rimanere qui e dare un contributo alla squadra anche durante il campionato. C'è stata qualche voce che magari ti vedeva anche poter andare in prestito in qualche altra società? Tu e giocarti le tue chance inserebbi qui? Sì, assolutamente. Ripeto, non voglio pensare al futuro per adesso, voglio pensare al presente che è qui Palena, a Pescara e voglio giocare le mie carte qui. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie.